Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Compito impegnativo, una sfida però importante, credo che sia parte di quel progetto di cambiamento, di nuovo PD, di riapertura della relazione sul territorio che è stato lanciato con le primarie e poi con la vittoria della segretaria Elislein e quindi credo che sia una sfida importante. Dopodiché lei va a fare il commissario a Caserta, Misiani va a fare il commissario regionale, questo significa che non ci sarà il terzo mandato per De Luca? Credo che la discussione sul terzo mandato è una discussione in cui ho impegnato complessivamente tutto il partito e anche i gruppi parlamentari e che sarà quella la sede in cui si deciderà di questo tema. Poi io personalmente vengo da un'organizzazione che ha fatto del limite rispetto dei due mandati e una norma inderogabile, quindi è una norma a cui sono molto affezionato. Sì, nel PD invece le deroghe, diciamo Luca, così a memoria me ne vengono in mente alcune. Sì, ce ne sono tantissime. Il PD è un problema.